Buonasera, bentrovati. Questa sera parleremo del bando regionale intitolato Credito e Crescita. È un bando dedicato alle imprese socie e non socie di Intercredit per avere un maggior accesso al credito e soprattutto una maggior liquidità in fase di erogazione dei finanziamenti. La Regione Abruzzo ha stanziato circa 15 milioni di euro per questa tipologia di bando che verranno destinati ai confidi per aumentare le quote sociali versate a favore dei richiedenti. Pertanto vi invitiamo, gentili telespettatori, a incontrarci o venirci a trovare nelle nostre sedi per farne richiesta completamente gratuita alla Regione. I nostri agenti vi aiuteranno nella compilazione semplicissima del modulo di richiesta e saremo noi a curare tutto l'iter burocratico. Questo bando scadrà il 31-12-2013. Visto l'elevato numero di richieste vi invitiamo a contattarci al più presto. Con questo vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Buonasera.